La mobilità elettrica raggiunge nuove vite di eccellenza. Scopriamo assieme Mercedes-Benz EQS SUV. Il nuovo SUV elettrico della stella coniuga perfettamente linee sportive, estetica, dettagli luxury e sostenibilità, grazie ad un bilancio di CO2 neutrale. Anche a bordo di EQS SUV come scopriremo si respira il lusso attraverso nuove forme in un mix esclusivo che unisce il fascino di classe S alla comodità di un SUV. L'estetica la trovo complessivamente sinuosa per un SUV di 5,12 metri di lunghezza con una larghezza di 1,95 metri e rispetto alla berlina il nuovo EQS SUV aggiunge 20 centimetri di altezza raggiungendo il 1,71 metri. Le linee aerodinamiche ottimizzate rivoluzionano esteticamente la categoria dei SUV elettrici con effetti positivi anche sull'autonomia. Contribuiscono a donarne un appeal sportivo anche i cerchi in lega leggera da 20 o 22 pollici. Condizioni di luce sempre ideali per un'estetica veneristica e una guida sicura anche di notte sono garantite dalla funzione dei fari Digital Light. Il sistema HD si basa di un software intelligente che regola in tempo reale la luminosità in base alle condizioni esterne del momento senza bagliare gli altri utenti su strada. Lo stile inconfondibile Mercedes-Benz spicca anche nelle raffinate luci posteriori a led dalla forma di eliche in 3D. Qui troviamo un capiente bagagliaio da 645 litri che diventano ben 2100 con i sedili posteriori reclinati. Le motorizzazioni disponibili per EQS SUV sono tre. EQS SUV 450 Plus con singolo motore elettrico a trazione posteriore e potenza di 360 cavalli. La versione intermedia 450 4Matic caratterizzata da due motori dotata di trazione integrale e potenza di 360 cavalli. E la 580 4Matic ha sempre due motori e trazione integrale con una potenza di 540 cavalli. Disponibili poi in quattro versioni, una con estetica electric art e tre caratterizzate dallo styling sportivo EQS Amgay Line. EQS SUV garantisce un'autonomia fino a 672 chilometri. Il sistema di ricarica a corrente continua con potenza di 200 kilowatt consente soste di ricarica brevi, passando dal 10 all'80% di carica in soli 31 minuti, mentre le ricariche a corrente alternata sono possibili con una potenza massima di 11 kilowatt oppure a 22 kilowatt con wallbox Mercedes. Un design raffinato e all'avanguardia caratterizza gli interni di questa vettura per un'esperienza di viaggio che mira ad essere più rilassante possibile, ritagliata su misura di ogni utente, grazie ai quattro programmi di marcia offerti dal Dynamic Select, Eco, Comfort, Sport ed Individual, che nelle versioni 4Matic di EQS SUV si arricchiscono di un'ulteriore modalità, off-road. Con quest'ultima il veicolo si adatta alle strade non asfaltate. La base viene innalzata di 25 mm, mentre a velocità superiori a 80 km all'ora viene nuovamente abbassata a livello standard. Ma come avrete già notato, l'elemento caratterizzante è senza dubbio questo MBUX Hyperscreen, che si estende per l'intera larghezza della plancia. Il grande display ed app si compone di tre monitor, che immergono il guidatore nel mondo virtuale Mercedes grazie alla tecnologia di realtà aumentata MBUX, che ripartisce sui tre schermi tutte le informazioni necessarie. Il software apprende i dati necessari dalle abitudini dell'utente e interagisce in tempo reale con le gestualità e il linguaggio del corpo. Questo ci garantisce non solo massima efficienza, ma anche intrattenimento con l'online music di MBUX Entertainment, per ascoltare in streaming i propri brani, canali radio e playlist preferite in altissima qualità. La sicurezza, come visto su molti altri modelli, è una parola d'ordine anche per EQS Sub, grazie ad un equipaggiamento di sistemi di supporto all'utente per prevenire pericoli su strada utilizzando set di sensori costantemente collegati alla rete. Nuova EQS Sub, lusso e sostenibilità in movimento. Scopritela in tutte le concessionarie Trivellato e su www.trivellato.it Trivellato da oltre cent'anni